E' stata una bella iniziativa che abbiamo voluto tenere qui a Milano, un confronto, uno scambio di esperienze fra due eccellenze di valore internazionale come il Niguarda e il Cardarello di Napoli. Ci serve per scambiare esperienze mediche, scientifiche, per scambiarci risultati di ricerca, processi formativi, modelli organizzativi fra due realtà che sono davvero un vanto per l'Italia. A me interessava avere questo confronto con Milano che considero oggi l'unica realtà davvero internazionale nel nostro paese, con una realtà di eccellenza della sanità italiana. Ma mi interessava anche proporre l'immagine di una sanità del sud, di una sanità campana che a volte viene descritta solo in termini di gossip, di false notizie, di stupidaggi. La sanità di Napoli è una sanità che in qualche caso ha delle eccellenze di valore mondiale e allora credo che sia onesto pretendere che ci sia un'informazione equilibrata anche rispetto alla nostra sanità.